Siamo contenti appunto che ci sia questa partecipazione di tutti quanti, così riusciamo forse a dare una svolta in più a questa verità che non arriva. Non ha alcuna intenzione di mollare Rosanna Angelillo, madre della giornalista Patrizia Nettis, scomparsa tragicamente all'età di 41 anni a Fasano, trovata senza vita, in casa, con un lenzuolo attorno al collo, il 29 giugno scorso, quella che alle cronache è stato consegnato come un caso di suicidio, non ha mai convinto familiari e amici della giovane giornalista originaria di Gioia del Colle. Domenica sera si è tenuta una fiaccolata per chiedere verità e giustizia in piazza Acciaia, davanti a Palazzo di Città, dove Patrizia Nettis svolgeva la sua attività lavorativa ed addetto stampa per l'amministrazione comunale. Dopo la sua morte sono emersi diversi elementi che hanno portato la procura di Brindisi ad aprire un fascicolo d'inchiesta in cui un imprenditore di Fasano è indagato per istigazione al suicidio e stalking. Patrizia avrebbe avuto con lui una relazione, poi finita. L'uomo avrebbe quindi minacciato vendetta in una chat con un politico locale. La famiglia, tramite il proprio legale, ha presentato richiesta di avvocazione alla procura generale di Lecce, obiettivo ottenere la riassumazione del corpo della 41enne per ulteriori accertamenti. L'ultimo atto che abbiamo prodotto noi in ordine di tempo è stato quello della vocazione. Aspettiamo di sapere cosa ne penserà la procura di Lecce. Ovviamente poi rispetteremo qualsiasi sia la loro decisione e in ogni caso non molleremo quello che è il nostro passo per quanto riguarda la richiesta di, ancora una volta, di riesumazione e di autopsia. Alla fiaccolata hanno preso parte oltre 200 persone, tra loro anche associazioni come Gens Nova in prima linea contro la violenza di genere e sin da subito vicina alla famiglia Nettis, assente l'amministrazione locale di Fasano, la quale ha preferito attendere l'esito delle indagini. Siamo qui per due ragioni. Uno, perché si facciano indagini che portino ad una verità. Due, perché ci sia finalmente giustizia. Giustizia non significa un colpevole a tutti i costi, perché commetteremo due ingiustizie. E tantomeno fare un processo per illudere la famiglia che poi vedrà fra tre o quattro anni assolto qualcuno. Vogliamo che sia detta la verità. Solo la verità, questa la richiesta dei partecipanti alla fiaccolata, una scritta riportata, chiare lettere, su un lenzuolo gemello a quello con cui Patrizia si sarebbe tolta la vita. È un lenzuolo gemello a quello che è stato usato quella notte. non so se da lei direttamente o da chi per lei. Vedremo cosa succede domani. Sì, non lo so. Non so proprio. Mi auguro appunto che si stimoli questa verità che non arriva. è un lenzuolo gemello. Grazie.